bello a tutti ragazzi e oggi siamo al quarto episodio della carriera con il Benevento se avete perso il terzo episodio ve lo lascio qui sulle schede o in descrizione ragazzi ho avuto il resoconto degli osservatori la partita sarà contro il Ternana, Benevento Ternana, Benevento 14 punti e Ternana 9 punti sarà una partita molto interessante perché potremmo riaprire il campionato anche se il campionato è già riaperto perché da poco siamo ad ottobre ma potremmo andare di tre punti avanti voglio andare a 17 punti e il Baris a 13 andiamo subito ragazzi a vedere il resoconto osservatore che ci hanno dato andiamo subito a vedere questo resoconto osservatore vediamo un po' i giocatori, riflettiamo ragazzi questi giocatori questo ragazzi tanta tanta roba, Riccardo Bianchi ingaggiamo il giocatore tanta tanta roba, riflettiamo questo giocatore, riflettiamo ragazzi ingaggiamo questo qui Alex Molina, ingaggiamolo ragazzi guardate questo Michael Pons, 15 anni lo ingaggiamo anche se non può far parte della prima squadra perché ha 15 anni ma da tanta roba ragazzi giochiamo la partita contro il Ternana ragazzi giochiamo in casa subito il caccio d'inizio con Ronaldo Ronaldo che la passa a Viviani? Cartum? mannaccia viene fermato ragazzi questo giocatore qua non riesco a pronunciarlo perciò non lo pronuncio mai ok, allora Cartum subito le vebre che la ripassa Tremolata? mamma mia passaggio Tremolata, Tremolata riesce a incertare il pallone che cosa sto? mannaccia Tremolata mette in mezzo per Ronaldo Ronaldo segna il gol 1-0 contro il Ternana ok ragazzi abbiamo avanzato del Ternana che viene fermata ma riprende Cartum? grande ragazzi Cartum tanta roba viene di nuovo avanzata di Ternana Tremolata prova una scivolata ma non ci riesce Tremolata riprova a prendere la palla ma sbaglia il passaggio attenzione all'ascoli ma all show a grande forchiera ragazzi grande 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 forchiera ok le pebre oh yes Tremolata Tremolata ancora lui palla indietro Viviani Viviani viene fermato grande difensore del Ternana tanta 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 roba cross in mezzo ragazzi una parte a Fiff prova attenzione a Donnarumma attenzione attenzione e c'è il fallaccio c'è il fallaccio attenzione grande oh show pastina subito pastina che perde palla mamma mia per pochissimo non entrava mamma mia ragazzi subito oh show le pebre ok ragazzi via via sulla fascia viene passata Tremolata 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 la passa a Ronaldo 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 la passa a Kubica Kubica tenta il tiro ma non ci riesce Kubica che la passa a Ronaldo Ronaldo la passa a Tremolata Tremolata la passa a Fiff a Fiff ha un'avanzata c'è una prateria c'è una prateria tiro di esterno ma non ci riesce palla fuori calcio d'angolo ok ragazzi a Fiff prova ma non ci riesce attenzione attenzione grande Kubica oh mio dio parata di Osho incredibile dal calcio d'angolo la palla viene spazzata fuori con il contropiede Kubica Kubica perde palla inutilmente ragazzi non dobbiamo perdere palla così ok Viviani a Fiff perde palla che portiere ragazzi mamma mia a Fiff grande a Fiff Kubica ancora lui Kubica che la passa Tremolata Tremolata fa un grande gol 2 a 0 all'ottantottesimo e finisce la partita ragazzi 2 a 0 per il Benevento andiamo a giocare la partita contro il Cosenza Ronaldo a Fiff e Osho sono impegnati con la nazionale speriamo che riusciamo a fare la gestione squadra come con l'altra volta ragazzi io non riesco a fare formazione andiamo a simulare la partita non so cosa dirvi mi dispiace qua non capisco mamma mia 2 a 1 per il Benevento tanta 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 roba contro il Frosinone calcio saltiamo la conferenza stampa e andiamo a giocare godetevi questo spettacolo ragazzi che veramente che scene incredibile mamma mia che ragazzo calcio d'inizio subito Viviani di nuovo Khartoum premolata premolata ok mannaccia per pochissimo ti tremolata premolata la pasta a Ronaldo Ronaldo fa un artist mannaccia per pochissimo ok ok ragazzi per poco salente per pochissimo attenzione grande tremolata che perde palla tremolata la passa avanti a Ronaldo 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 che la passa a Fiffo viene fermato ok insigne Lefebre Perde palla Volun Prova a passare da Fiffo Prova a passare da Ronaldo ma non ci riesce Ok Ubica Volun ragazzi Volun Volun Metta in mezzo per Ronaldo E Ronaldo sbaglia il colpo di testa Tremolada Tremolada che la prova a passare a Ronaldo Viene intercettato ma Ronaldo prende palla Viene passata Tremolada Tremolada che la passa a Cartum Cartum la passa a Kubica ma perdono palla Ok Tremolada di nuovo Viene intercettato ma Fiffo Grazie Volun Kubica Pastina Lefebre Ok Subito Tremolada Il 30 e mezzo ma non ci riesce Ok Pastina di nuovo Tremolada Perde palla Stiamo giocando veramente male Veramente veramente male Ok Cartum Pastina Di nuovo 2 ad Fiffo Cavolo Dai Dai Fiffo Riprendila Bravissimo Ok Attenzione all'avanzata del Frosinone Attenzione Grande Ok Subito Allefebre Allefebre A Campora A Fiffo A Fiffo A Fiffo A Fiffo A Fiffo Tenta il tiro E c'è il gol Albitro E finisce la partita così ragazzi Tanta Tanta Roba 1 a 0 Grazie a Fiffo Partita veramente Faticata Tremolada Ex Giocatore del Modena Che ora ci gioca contro Mamma mia ragazzi Che emozione Che emozione Cubica Subito Aggressivi A Fiffo Tanta roba Vai 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 Mamma mia Per pochissimo Per pochissimo Tremolada Ronaldo che tenta il tiro Cubica C'è la traversa E poi il gol 1 a 0 ragazzi Viani Che sbaglia Ok Cubica Ronaldo Ronaldo Tenta il cross in mezzo Ragazzi obiettivo Dobbiamo far segnare Tremolada Contro la sua ex squadra Tremolata 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 Per pochissimo Tremolata Siamo ragazzi Comunque Primo in classifica 26 punti 6 punti di differenza Col Parma Con tanta tanta roba Vi lascio così ragazzi Con questa classifica Davanti Vi ricordo Vi ricordo di lasciare un bel like Spiegare al canale Noi ce l'ho Sono io E ciao